oh ma sta carbonara si è persa per strada non so dove metterla tutta sta pasta prendi ma quanta cazzo pasta è è quella che abbiamo ci hai messo il pecorino si si secondo me non ce la fa dammi un bacino però no dammi un bacino adesso arrivo con il vino poi dammi un bacino c'ho bisogno della carica che papali pure a pali ovunque pali ovunque pali ovunque li prendo su fifa li prendo in vita reale si ma te non metti troppe robe sopra sto tavolino che sta in bilipozzi ben trovati amici adesso voglio sapere come come io già a vederla mi viene da un'unità è troppa vabbè iniziamo devo dire com'è nel shilling è quel fottuto shilling il numero del 118 no però alza tempo la cosa sai che ti dirò che io ce la posso fa ti posso chiedere un favore me porti un chilo di carbonara e non me porti in tovagliolo c'è un capello si c'è un cazzo di capello dentro la mia carbonara è cortissimo quello è tuo io che ero un refound di questa carbonara inizio già sbottonando io oggi no io oggi c'è stiro si cos'è che fai tu stiro le zampe vuol dire che muori in game io già sto in difficoltà comunque se incomincio a beve il primo coccio d'acqua si e non iniziare per favore me dovrò liberare non iniziare vai fuori un occhio guarda la tipa e un occhio guarda la carbonara sei diventato un pesce martello non so ma rotta se non erro mamma mia sto già a volare te sei messo mare comunque c'è sei proprio in alto mare ma fammi andare con calma c'è sto guarda che già mi sarò mangiato duetti eh alziamo le ali come francesco francesco totti no totti francesco in inzaghi non mi fai fare questi due vai fuori l'hai pure visto francesco totto che erroraccio terroraccio io ti faccio un regalo ti regalo il mio silver button questo me lo metti davanti anche di Sant'Emo su GTA perché questo è proprio l'ultima cosa l'ultima l'ultimo oggetto che farei meno posto a strema un altro bottone della camicia se tu vai in bagno qui sul primo bagnetto apri la porta questa subito questo subito a sinistra si ho capito dietro dietro c'è dovrebbe sta una cappatoio se non c'è stata la cappatoio c'è sta il filo che ci leghi la cappatoio passami pure quello me lo metto a moda tesoro stai sudando vedrai che sto giro cestero allora fre te sei maniato cinque kebab e tre pandori metro di pizza 70 nuggets porco dio fre un chilo di carbonara ma che ci vuole se te devi ferma un attimo te fermi un attimo vai fuori dalla finestra prendi una boccata d'aria torni dentro piccola boccata d'aria piccola piccola c'è sto ho bevuto ho bevuto più io una cosa voglio capire per quale motivo le mezze maniche e non lo spaghettone numero 5 non lo so perché mi sembrava più comodo con gli spaghetti cominciavano a schizzare tutte le parti no pensavo fosse già sta camera è piena le schizzi è vero è la verità no 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 ci ho versato un po di esplosa una birra una volta che è quella non so se quella è birra quella dietro la porta non so se è birra ma sa che quella a destra è birra e quella cos'è perché devi fare le domande dimmi solo perché tu devi domandare quella cos'è non lo so cos'è mangia cazzo e allora stai zitta cos'è quello non lo so cos'è però non posso caricare un video su youtube dove non finisco una challenge sto morendo di caldo per te io sto a tremarsi me ne vuoi alzare vai un attimo fuori subacqua e a un colore viola oh mi risiedo se tocca mangiare due etti e poi dopo ci rimangono tre etti oh però mi fai complimenti per favore per la carbonara che ti ho fatto buona buona sono stata brava elena la sai la storia della carbonara che storia della carbonara praticamente c'è stata una falignameria sotto il tavolo davanti a un piatto di carbonara riesce a collegare cose si mi basta sotto il video che abbiamo caricato oggi su youtube in quel video il top comment è fre me raccomando fagli cucinare la carbonara a lei perché te sei in pericolo da quella volta delle fette biscottate e tu dirai che c'entrano le fette biscottate le fette biscottate è buona è buona mangiarle anche un bambino no le fette biscottate hanno questa storia dietro blur si si belli capelli una volta durante un suo video ha rivelato che lui spesso e volentieri mi ha sputato nel bicchiere che amico hai capito che amico allora io ho ben pensato la stessa estate che è venuto che poi l'hai conosciuto anche tu che bisognava ricambiare questo favore e cosa ho fatto lui dato che era fitness in esso in tempo un po si è smosciato la mattina si mangiava le cose le fette biscottate tutte le mattine tipo tre giorni di fila ok c'era tre giorni di fila che si mangiava le fette biscottate ho detto vabbè questa è una routine hai presente qua la chiesa del quarto giorno la notte mentre lui dormiva ho preso l'attrezzo capito qua l'attrezzo si quello grosso duro vabbè non so le dimensioni comunque l'attrezzo no non le sai no non le so non le so e praticamente santa che santa maria in castagnola si ok cosa sopra cosa hanno le chiese le cupole ok quindi collegano all'altra parte ok ok diciamo che quella cupola è andata a fare a modi grattugia sopra la fetta biscottata non ti sei fatto male no mia mi ha dato guardati ti dico la verità gusto perché poi ho visto gusto ho visto già marco gustarsi questa bella fetta biscottata uguale da 30 minuti te devi sbrigati ma che guarda porca miseria hanno ragione è uguale da 30 minuti guarda guarda che qui ci mangiano due persone è uguale da 30 minuti e qua ancora questo sono sei attire pasta magnati ma che stavamo a fare da ma guardate la postazione guardate la cazzo di postazione come è collegata gli schermi su qualcosa che può mamma mia siete stata sempre a pensa male aspetta copriti porco dio mi sono allacciata mi sono allacciata vedete che è paranoico se tocco la videocamera si scollega perché è collegata al computer ci sta un filo che è corto così il computer è la la videocamera qui puoi rilassarti puoi rilassarti e continuare a mangiare forza ali io non li va farò mai questi sono due piatti sui soliti due piatti dai su masticare aspetta fammi masticare aspetta io lo preparo tu massima in game no no girati di la girati di la no 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 non giudicare niente non giudicare niente non ho un luogo non sbotto non sbotto non ce la possiamo fare sta soffra è blu in faccia è blu tamponatina dai su via ma finimo a finimo questi sono questi sono tre atti dei passi prima accalabbi il pesce più piccolo per poi passa al pesce più grosso il pesce più grosso me l'hai fatto vedere porco dio oh santa maria tieni la padella tieni la padella tieni sta cazzo le padella zi oh porca puttana e mo so cazzi e mo che è cascato il tavolino so cazzi zi sei rotto il bicchiere regala no gli devi fave dei vetri c'è ragazzi abbiamo abbiamo fatto un disastro no giù giù e lei staccata ooo aspetta porco dio mi sono ferata addosso devi tenere la batteria la batteria zii sai sto video come lo chiamo doveva essere mega flop doveva essere freni su un chilo di carbonara ok ci siamo cioè la prima cosa che ho fatto è salvare la padella te rendi conto vigo 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 no no guarda che stavamo nel chilling questi sono due piatti zi meno dei due piatti questi tre tre quattro boccolotti tre quattro boccolotti ne sono rimasti uno due tre quattro cinque sei set tipo una sessantina di boccolotti Mi inizia a venire quei brividi Ma come ce l'ho finito qua Prinzonato da una vita A mangiarmi un chilo di carbonara Sta male Un senso a questa vita Io spero di rimediarci la falegnameria stasera però Ci deve stare la stoncata Non posso stare a soffrire così inutilmente A quanti etti sto? Ah sì io penso che stanno otto etti Ci siamo quasi Cioè siamo quasi Cioè tre boccolotti dei qua Tre boccolotti dei qua Questi sono otto etti Vai No pure col guanciale Sì sì un bel boccone No pure col guanciale Sono forte Vai sei forte un bel po' Sono forte un bel po' Vai Ti scassano in pianto Ci sei? Stai sul pezzo? Passamela a cappatoio Forza Manca pochissimo Manca veramente pochissimo Ragazzi è partito a mille Siamo passati da tre boccolotti A quattro cinque di fila Guarda Guarda che forchettata Mio Dio Stava male Spinga signora Spinga Oh mia donna Santa vomita Vomita ragazzi Vomita Già sto Tre porzioni Cioè tre Manca veramente pochissimo Ormai ci sei Non puoi rinunciare adesso Uno due tre Uno due tre Fante cavallo e re Uno due tre Ripetilo Fante cavallo e re Ripetilo Fante cavallo e re Ancora Fante Cavallo e re Vai Vai Ok Hai finito Ne mancano cinque Di numero Lo so Lo so Chi sei K frenesi Su Easter Più forte Sono il cazzo di K Sono K frenesi Dammi sti boccolotti Ok Quanti Cinque Sono cinque Sono cinque Sono cinque Meno cinque Hai finito praticamente Un chilo Hai fatto fuori un chilo Ci sei riuscito Ti manca solo L'ultimo sprint finale Ce la fai So che sto al limite Sei arrivato Non sei al limite Sei arrivato Hai finito Il limite è quando hai finito Vuoi prima due o prima tre Oppure vuoi due due uno Come preferisci Facciamo tre poi due Vai Cos'è? Allora attenzione perché questi Sono gli ultimi Due boccolotti Di un chilo di carbolara Ellie ascolta Io li mando giù Ok? Dai Poi corri in bagno se vuoi Sì prima di gluttisco Poi corri in bagno Hai mangiato un chilo Due boccolotti Cosa sono in confronto a un chilo? C'hai ragione il fatto che Incomincia ad essere veramente Non è niente Due boccolotti in confronto a un chilo Ragazzi L'ho finita Ragazzi Un chilo di carbolara Non c'è più Mezzo boccolotto L'ha finita E' fuggito Non so dove Stavo vomitando dal volcone Sì 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 Sta vomitando decisamente Ragazzi E' tornato E' pallido Come un cencio Però è tornato Ho dovuto pulire T'ho preso una fila Perché piove Grazie Non so che dire Non sono riuscito Neanche a arrivare in bagno Cioè Ho fatto da qui T'ho sentito Tutto di fila T'ho sentito Sembrava come un rullo T'ho sentito Come potremmo salutar Il video di youtube Non si può salutar Il video di youtube Lasciamo il like No? Dici come minimo un like Con minimo un like Dopo Questa faticaccia Che hai fatto Venite su twitch A usare il vostro Amazon Prime gratuito Bella Lo siamo visti Bella per youtube Qua sto momento Va immortalato Questa è la fine del video Vieni qua Eroe Azz Let's go Cassa Ciao 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 Ciao